Ciao a tutti, entro così al volo, sì non avete sbagliato canale, non siete su un canale di pirati ma mi hanno operato all'occhio, potevo apparire con o la benda di tampone oculare bianco e con gli occhiali da sole però mi dava l'idea che non mi vedevate in faccia, poi mi è venuta in mente la benda di carnevale, ho detto vai figatissima, così pensavo di essere una strega invece sono un pirata e adesso vi prendete così come sono. Allora scherzi a parte ringrazio tutti quelli come avete scritto in tantissimissimissimissimissimi, siete stati proprio fantastici, dolcissimi, meravigliosi, non so cosa dirvi, guarda grazie 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 proprio a tutti di cuore e sto tornando, coming song come si suol dire, sto per arrivando, questo qua è il mio gerundio presente, l'operazione è andata bene, devo tenere l'occhio all'oscuro praticamente. Sono grazioso, sei vestita pirata, e comunque niente, devo tenere l'occhio all'oscuro, quindi potevo sì anche arrivare con la tapparella giù 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 giù, ce l'ho l'occhio, state tranquilli, l'occhio c'è, vede addirittura dieci decimi, quindi tanta roba, ne vedevo due decimi qua a destra, adesso quello di qua poverino vede tre decimi, quindi adesso, sì era una talpa ragazzi, a tutti gli effetti, ma proprio, non vedevo proprio un palmo dal mio naso, infatti se vedevate quando leggevo col telefonino stavo così, adesso posso leggere col telefonino laggiù, mi sembra vero, e comunque sia, è stata un'operazione, un disastro, perché a tutti quanti la catarata dura da, la media quanto meno del chirurgo che mi ha operato, era 9-11 minuti, 35 lunghi minuti di operazione, che stare lì vigile, anche se non vedi niente, perché poi non vedi niente, che brutta esperienza, comunque sì, io poi sono una fifona, cose di dottori, preferisco avere a che fare con gli spiriti che non con i medici, senza nulla, anzi guarda, ringrazio anche il dottore, ha avuto una santa paziente, è stato bravissimo, anche tutta l'equipe, proprio fantastici, e comunque, grazie a grazie ragazzi, a tutti quanti, per, 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 dico, per gli auguri, per, non avete scritto di tutto e di più, e tutte cose una più bella dell'altra, cioè, mi sono sentita proprio circondare da tutto il vostro amore, comunque, l'occhio va bene, l'operazione è andata un po' così, vabbè, così, tutte le complicanze del caso, però, che dire, sono felicissima di, di rivederci anche se in questo momento non sembra, però dai, era simpatica l'idea della venda da pirata, comunque, adesso tornerò, mi vedrete con gli occhiali da sole, da qua in avanti probabilmente, che adesso non so, sarà un intercalare, perché con l'occhio sinistro, senza occhiali da vista, non vedo, con l'occhio destro, vedo, però devo stare al buio, perché, cioè, l'occhio deve stare al buio, per un discorso che mi ha spiegato la retina, vabbè, e quindi adesso sarà un casino, cioè, infatti, io adesso, da qui a lì, praticamente, mi vedo tutta sfocatissima, comunque, adesso, tanto io non mi devo vedere, mi vedrete poi voi, non è un problema, e comunque, in qualche modo, mi organizzo, in qualche modo, torno, come al solito, più carica di prima, e, e, buon, vi ringrazio ancora, davvero, 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 proprio, a tutti, 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 mi avete riempito il cuore, ciao a tutti, un bacione grande, 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 in mezzo, ciao!